Un progetto partito nel 2013 da Fondazione Sospiro insieme all'Iceo Artistico Munari. Sabato l'inaugurazione delle opere realizzate per abbellire il Parco della Scuola Media Statale Anna Frank dagli studenti e anche dagli ospiti della Fondazione che prendono parte al progetto del Laboratorio Artistico. Gli studenti hanno realizzato opere totemiche in argilla grazie alla supervisione dei soci del Laboratorio del Cotto guidati dal maestro Giulio Grimozzi, un lavoro lungo che ha visto l'arte come occasione di inclusione sociale e di accrescimento culturale. Uno degli scopi fondamentali del Laboratorio del Cotto è che dovrebbe avere una finalità di educazione a una tradizione cremonese che purtroppo sta scomparendo. Dall'anno scorso a quest'anno abbiamo iniziato questa esperienza con i ragazzi del Liceo Artistico e pare che sia venuta una felice combinazione di ingegni e di attività. È un'esperienza nuova che facciamo con queste iniziative, mentre abbiamo già fatto delle iniziative per i ragazzi e i bambini dell'elementare della scuola materna. Il Laboratorio Artistico di Fondazione Sospiro si è concentrato su un'area del parco dove la presenza degli alberi ha suggerito delle opere sospese ai rami, delle campane sempre realizzate in argilla. È un progetto che è nato da lontano, già si operava all'interno di fondazione. È stato molto bello portare i ragazzi qua al Laboratorio del Cotto all'interno di un ambiente in cui sono stati accolti benissimo, operano insieme agli altri operatori, insieme agli studenti e ci dà soddisfazione anche per il lavoro che si sta facendo. La collaborazione con il Laboratorio del Cotto prosegue ed altre opere sono già in fase di realizzazione. Grazie alla comunità di Sospiro noi abbiamo preso contatti con il Laboratorio del Cotto e abbiamo organizzato questa esposizione con queste figure, queste sculture totemiche che abbelliscono sicuramente il parco, ma in realtà sono il frutto proprio di una bella, grossa collaborazione, un intenso lavoro perché è stato molto, molto faticoso e finalmente abbiamo finito, ma forse la cosa buffa è che non l'abbiamo neanche finito perché abbiamo in produzione, in cantiere altre opere. Poi vorremmo veramente continuare questa collaborazione con il Laboratorio del Cotto perché è stata fantastica.